e venivano giù dalla strada che porta su erano strada loro sai che correvano un po la strada che porta su erano strada grazie rifacciamo subito che agitazione una bella messa facciamo 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 sempre 2-2-2 fino a che ora è? 5 e mezzo in un'ora facciamo tutte così anche mezz'ora tanto metto su mille piedi a zona adesso cazzo si sta in un'altra zona si si però scusa se parlavi con me prima si cazzo figlio mancava un filino di cazzo in fondo un filino e ho sentito che mi ha detto qualcosa ma ha fatto due giri e dopo è tornata indietro devo ricordarmi dopo con la curva lì infatti gli ho dato poco devo ricordarmi dopo con la curva lì di aprire magari fermarti anche un attimo guardare lo stacolo dai gg adesso ti faccio vedere io come si va a fare il ciclo non fare il giro guarda il giro sopra della pianta fai stessi eh non è fai stessi se fai il giro dietro la pianta da borsa tra mai do vaff hai hai l'ac va bettate manca научi ma che semplice di girarla prima della pianta e la freccia e si anche secondo me loro possono passare da parte con la verde ma se non è meglio se vuoi provala posso? tu che giro sei? il terzo mi manca questa sai che c'è? è il secondo perché ci siamo fermati per l'incidente ma l'ha fatto testimoniare qualcosa? no c'erano i suoi amici del motociclista è arrivata l'ambulanza? è arrivata l'ambulanza però fermavamo il traffico perché era proprio in curva mica arrivavano giù altre moto a manetta cazzo mi ha detto ma cos'è un autodromo questa strada qua? eh si è legante vai vai cosa vuoi è che esceglare? è un autodromo è un autodromo è un autodromo che ci scegliano? è un autodromo è un autodromo è un autodromo è una macina Il polo che sia anche di fuoco Il polo che sia anche di fuoco hai visto che si può fare a zero almeno avete risolto il ritardo grazie ciao ciao ciao